Troppo sia un'iniziativa molto bella, vicina alla mia sensibilità e a quella dei miei colleghi, visto che abbiamo aderito in parecchi a quest'idea, ci è piaciuto particolarmente il pensiero del delivery, visto che comunque è stato durante il lockdown il nostro modo di rimanere in contatto con i nostri ospiti. Sicuramente è stato diverso, è un'esperienza diversa rispetto a cucinare in cucina, per la cucina e per il ristorante. Una cosa nuova è stata un'esperienza anche questa. Il nome EPAT sicuramente parlo a nome dei miei colleghi che hanno aderito. Tutti quanti siamo uniti nel desiderio di portare un pensiero a questi ospiti che magari in questo momento sono in difficoltà, ognuno con le proprie peculiarità, con la propria tipologia di menù. Sarà una domenica di festa un po' per tutti, un po' per noi che diamo questa opportunità e un po' anche per loro che potranno avere questa opportunità. Usare la stessa formula per mandare una coccola gastronomica a chi è più in difficoltà ci è piaciuto particolarmente. E buon appetito! Grazie! 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 Grazie!